3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 4, 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 E' un po' che cosa è lo scatto, mi esaggono solo, tosse dei rossi, mi 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 mi, non è entrata, no, non è entrata Si lo sonerai, non s'amorativo, stasera, no, non è entrata, no, non è entrata, no, non è entrata